Amici del Mirage New York, in un giorno come questo, piovoso, secondo te, secondo voi, dove conviene andare? E adesso ve lo faccio vedere, ragazzi, cercando di fare la spallate, voilà, ragazzi, osservate che bello! Tutto questo verde all'interno dell'edificio di Bank of America. Cosa abbiamo, ragazzi? Abbiamo un parco, solamente che è un parco coperto, e questa è la gran cosa. Allora, essendo un parco coperto, si accede all'interno del grattacielo, e poi venite qua. Guardate che bello! Potete mettervi a bere un caffè, potete studiare, ma voi non studiate, venite in vacanza. Potete godervi il fresco, il caldo, anzi, l'inverno, il fresco d'estate, perché c'è l'aria condizionata. Guarda, eh, ragazzi, guardate qua, sono parchi coperti all'interno del grattacielo. E poi, se vi fa piacere, potete anche fare una cosa bellissima, cioè uscire dal grattacielo, così. Guardate che grande, è proprio bellissimo, ragazzi. Adesso ce ne usciamo tranquillamente dal grattacielo, con molta nonchalance. Qua ci sono ovviamente coloro che ci lavorano, che escono, vedete, queste sono persone che lavorano, che escono praticamente da qua, da questo grattacielo, tranquillamente. Dopo la loro giornata di lavoro, la banca, una delle banche più importanti, e noi usciamo con loro. E lì c'è Brian Park, amici. E allora, ragazzi, cosa abbiamo imparato oggi? Che ci sono, casomai stia piovento, ci sono questi parchi coperti dove potete trovare il riparo, mangiare qualcosa, bere un caffè, li potete riposare. Un saluto, vi aspetto nella nostra sede e per notare su www.model.com. Ciao.